Ciao ragazzi, video non in programma perché come vedete è mercoledì e non sono solito pubblicare video di mercoledì però l'altra settimana ho fatto questa specie di piccolo spettacolo e questa esibizione e quindi io volevo pubblicarla sul canale, mi andavo di pubblicarla e però se aspetto ancora un po' non la pubblicherò mai più e tanto vale pubblicarla lontano da quando ho fatto l'esibizione e quindi ho deciso di pubblicarla oggi Allora, ho già filmato il tutorial per venerdì però penso di avere problemi nel caricarlo perché non ce la faccio, ho da fare e la prossima settimana avevo intenzione di caricare il contest martedì e tutti i video che avevo in programma però secondo me non riesco a caricarli perché ho molto da fare in questi giorni e è un impegno che mi occupa tutta la settimana, tutti i giorni, devo lavorare quindi niente, spero di portarvi i video che riesco se non li carico non vi preoccupate perché appunto ve l'ho detto e quindi niente, li caricherò il prima possibile mi scuso e niente, ma li caricherò, state tranquilli ciao va bene da qua lei sembra un po' timoda, più chitubante ok cominciamo, qui ho il mio mazzo di parte il mio normalissimo mazzo di parte con te questa sera proverò uno sperimento di misdirection, ovvero il controllo dell'attenzione ti chiedo di dirmi che cosa sto facendo in questo momento, anzi che cosa ho appena fatto stiamo mettendo il microfono, sì meglio arrivo col microfono per la nostra miss allora, hai appena preso due Q ok, due donne molto importante il colore, le donne nere quella di fiori, non so se riuscite a vederle le due donne nere quella di fiori e quella di picca che andrò a prendere e andrò a mettere nella mia tasca così adesso andrò a prendere questa carta, un'altra donna la donna rossa di cuori ti chiedo metti la mano in questa posizione un po' più bassa, così se puoi andare un po' davanti grazie ok, vado a prendere la donna rossa di cuori così e tienila in mano in questo modo pinzala così adesso se ti chiedessi di dirmi che cosa abbiamo fatto da inizio dell'effetto? che cosa mi risponderesti? mamma mia, che domanda complicate hai preso due donne nere sì e le hai messe in tasca ok dopodiché hai mi dato in mano una donna rossa di cuori ok adesso vado a prendere la carta gemella della donna rossa di cuori ovvero la donna rossa di cuori vado a prenderla così e vado a metterla sotto quella di cuori tienila così adesso ti chiedo di usare la tua attenzione te l'ho detto che era uno sperimento di attenzione quale delle due donne è sopra? quella di quadri ok tieni la carta ok sopra è quella di cuori beh non è importante comunque sopra c'è la donna rossa di cuori è scelta proprio una buona devo dire io vado a mettertela così in mano ok data che l'ho messa sotto quella di cuori sopra adesso quale delle due donne hai? quella di? quella di quadri quindi se adesso ti chiedo una domanda molto facile di che colore sono le donne che hai in mano? rosse rosse giusto quindi qua nella mia tasca ho le due donne nere ok ma se con uno scocco di dita gira la carta in mano hai le due donne nere e io nella mia tasca avevo le due donne rosse e macchia! adesso sono senza parole continuiamo sempre con le donne ti chiedo allora vado a prendere di nuovo la donna rossa vado a prenderla così e la vado a mettere alla mia destra ok adesso vado a prendere l'altra donna di nuovo la carta gemella quindi di nuovo quella rossa vado a prenderla e vado a metterla sotto la sua gemella qui vado a mettere le due nere ti chiedo metti la mano sopra le donne rosse io metterò la mano sopra quelle nere adesso sotto la tua mano hai le donne rosse giusto? sì mi basta appoggiare la mia mano sui carri di dita no ma non ci credo arrivano sotto la mia mano gira le tue fai vedere al pubblico no ma ragazzi ma è impossibile bene adesso posiamo un attimo le carte immaginiamo proverò un effetto di mentalismo immagina che nelle mie mani abbia le quattro regine cuori, quadri, fiori e picche ti chiedo di focalizzare sul colore rosso o nero dimmene uno rosso immagina di prendere le due donne rosse e di portarle nella tua tasca di conseguenza nella mia mano rimangono le due donne nere quella di fiori e quella di picche ti chiedo di dirmi un seme picche o fiore quello che vuoi fiore quindi la donna che hai scelto è la donna nera di fiori qui non so se hai visto dall'inizio dell'effetto ho un astuccio un astuccio di plastica con all'interno quattro carte di queste quattro carte io sapevo che tu avresti scelto la donna nera di fiori a tal punto da metterla l'unica girata rispetto alle altre quattro ma fate un applauso è sumulgente io sapevo che tu avresti preso la donna nera di fiori a tal punto da prenderla di un altro colore rispetto alle altre tre donne con il mano giusto? infatti è fucsia rispetto alle altre carte che sono verdi ma date che sapevo che avresti scelto questa donna perché portare tutte e quattro le donne? è la magia delle donne il nostro Andrea Melano alla prima esibizione voglio ricordare che lui è giovanissimo classe 1988 appena compiuto 98 scusami appena compiuto 18 anni è di saluzzo la sua passione e la magia lui è Andrea Melano grazie